eh no signor sepe non andiamo bene no no questo questo affanno che voi avete è causato dal sovrappeso nemmeno dimagrici non avete ragione infatti non mi fai guarda che io rendo specchio di quanto mi vede che rendo specchio mi piace a parte lo stesso e non è bene non mi dovete abitire voi sapete che dovete fare che devo fare non vado a mangiare le pasta e le pan e poi guardate in due specchi non vi bevete il vino e poi guardate in due specchi non vi mangiate la roba condita con olio sale e vi guardate nello specchio a romenico non vado a mangiare dolci e vi guardate nello specchio signor sepe voi avete capito il buono che dovete fare ma che cosa è il dietro specchio